Bella ragazzi, qua è Ghiotto, nuovo video diciamo verso sera, non per parlare di calciomercato Lazio perché ahimè grosse notizie non ci sono, tranne quella di Tom Abasic ma che già trapelavano i giorni scorsi, che è vicino alla Lazio, c'è l'accordo ma l'indice di liquidità blocca l'arrivo di questo giocatore, voi so che mi chiederete Ghiotto ma l'indice di liquidità esiste solo per noi? In effetti io lo sento nominare solo quando c'è il calciomercato della Lazio, quello del PSG mai, non c'è l'indice di liquidità per loro, adesso a parte le battute comunque è un acquisto addirittura d'arrivo che evidentemente Sari ha voluto, io ho qualche dubbio su questo giocatore però a centrocampo comunque abbiamo bisogno di un rinforzo Diciamo che ieri sono arrivati buoni segnali dalla seconda amichevole del ritiro di Auronzo col gruppo sportivo Fiori, squadra di Belluno, 11-0 quindi abbiamo addirittura migliorato lo score rispetto alla prima amichevole con la top 11 di Cadore che è finita 10-0 Si è visto già tratti di sarrismo anche se poi il sarrismo si vedrà contro squadre che ti fronteggiano, che corrono, che ti mettono in difficoltà, che non ti fanno giocare Però comunque l'idea di calcio c'è, si vede già un cambio di mentalità, una squadra che vuole tenere il pallone, vuole dominare, difesa alta e oggi ha parlato lei e ha detto ci vuole tempo È quello che io vi dico da mesi, quindi mi raccomando, eventualmente se nelle prime partite magari arriveranno i risultati ma non giocheremo bene o viceversa non preoccupatevi Ok, perché comunque mi sembra che stiamo lavorando bene, la società anche sta lavorando bene Però, e voi l'avrete già letto dal titolo e nottato dalla copertina, io sono un po' contrariato su un argomento che è venuto fuori nelle scorse live, più o meno da una settimana Perché ragazzi, adesso ci saranno altri due amichevoli della Lazio, ok? Venerdì e martedì contro Triestina e Padova, due amichevole classiche che facciamo sempre contro quando siamo ad Auronzo Che saranno trasmerse in chiaro su Sport Italia, quindi le potremo vedere, queste le potremo vedere Perché noi, fino a ieri, siamo andati, noi tifosi laziali poverini, o a cercare siti streaming pirata Perché poi dicono, ah la pirateria uscì dal calcio, e ho capito, però noi le partite le dobbiamo vedere O se no, alcuni canali streaming su YouTube che mi avete anche consigliato voi Ieri mi avete tempestato di messaggi su Instagram, anzi, tra l'altro seguitemi perché sono attivo, pubblico ogni giorno post, story E quindi seguitemi su Instagram, e quindi voglio dire, è possibile che una società come la Lazio, una società importante Che sta alzando l'asticella, perché poi l'arrivo di Sarri, eccetera, è un modo per alzarla E io sono contento di come sta lavorando la società Però ragazzi, ma ci vuole tanto? Ce l'abbiamo il canale YouTube che ho soletto, fa veramente ridere, commenti bloccati A trasmettere le amichevoli sul nostro canale YouTube in streaming, in live Ragazzi, ma qua la pre-storia, cioè siamo nel 2021 Io, quando apro YouTube, tutte le volte, non, oggi mi è venuta la partitella del Cagliari in famiglia Cioè, la partitella in Cagliari, in famiglia, trasmessa in streaming Il Parma, che è in Serie B, oggi c'era Parma a Bocum, con 2000 spettatori Ieri c'era la Fiorentina, ieri l'altro ieri, in streaming sul canale Cioè, siamo gli unici Cioè, ragazzi, ma siamo la Lazio Il Milan, col Pro Sesto, a parte che il Milan, ma ci aveva, mi hanno detto, 60-50 mila spettatori Ma ragazzi, ma... Sì, caricano gli e-lines il giorno dopo, ma non ti tolgono anche la possibilità di commentare Cioè, io che faccio lo YouTuber? Il commento è importante, l'interazione è importante Quindi, io lancio questo messaggio, lo faccio pubblicamente Perché poi io non sono un lecchino della società Ok, a me non interessa leccare il culo per poi in un futuro avere qualche possibilità Perché poi, come dire, io voglio essere me stesso su YouTube Quindi, quando vai loggiata, lo dico Io sapete che sono un pro lotito, ok? Penso che sia un bravo presidente che lavori bene Poi, come tutti, fanno i suoi errori Però, in questo caso, lotito Chi per esso, il social media manager, appunto, della società Svegliamoci, perché è veramente scandaloso Cioè, adesso non è che siamo nel 2015 Che magari YouTuber ha l'inizio, i social Cioè, 2021, lavorare anche sui social è importante, ragazzi Cazzo Cioè, io vedo anche, sì, su Instagram non lavoriamo male Però, cioè, io le amichevole le devo poter vedere Perché poi io vedo, cioè, io, allora Ho aperto oggi l'amichevole del Cagliari in famiglia C'erano 300 spettatori, un amichevole Il Parma, 2000 Quindi la gente, anche se è estate, vuole vedere le partite Perché ormai il calcio, ragazzi Lo viviamo 365 giorni all'anno Quindi lancio questo appello che non servirà a nulla Però mettiamo un like se siamo d'accordo Commentate E niente Poi, vabbè, ho lanciato anche questa idea ieri Non so se avete visto il video Molti mi hanno scritto Ghiotto, mi piacerebbe Un'idea che poi vediamo se riusciremo a realizzare Ma, se si vuole una cosa Almeno io sono così Ce la si fa, ok? Primo o poi Non è detto il prossimo anno Tra due anni Primo o poi ce la facciamo Cioè, l'idea sarebbe quella di creare un team Un team del canale Con, diciamo, 15, anche 20 ragazzi 22 massimo E andare a fare un amichevole Ad Auronzo con la Lazio Voglio dire Fanno le amichevoli con la top 11 di Cadore Con il gruppo sportivo Fiori Ci andiamo noi, ovviamente Ragazzi che sappiamo giocare Che sanno giocare a calcio Cioè, poi È aperto a tutti Però possibilmente a gente che sa giocare a calcio Però sarebbe bello, no? Per me è una cosa Anche realizzabile No, io quest'anno non sono potuto andare ad Auronzo Perché purtroppo lavoro Non ho ferie Prossimo anno ci andrò Mi informerò Parlerò con chi di dovere Ovvio Magari non si potrà fare Ma secondo me Magari una cosa È un progetto che Non si realizzerà Magari il prossimo anno sicuro Però tra due e tre anni E anche qua Sarebbe un modo Per interagire con i tifosi Anche una cosa Penso che nessuno l'abbia fatto Mai nessuno l'ha fatto Mai nessuno gli è venuta questa idea Nessuna società E anche dal punto di vista social Marketing, eccetera È una cosa che sarebbe bello Cioè, vi immaginate, no? Trasmettere la partita con noi Un video Fare un video Cioè, sarebbe carino C'è anche la Lazio La società Lazio Sarebbe vista bene Fare coinvolgere anche i tifosi, eccetera Non so Un'idea che mi è venuta in mente ieri Perché ho visto Sti scappati di casa Che giocavano Che poi hanno giocato anche bene Se la sono giocata Voglio dire Noi siamo un bel po' Non saremo in grado Di fare un bel team, no? Vabbè, ditemi se Come dire Come idea vi piacerebbe Anche se, ripeto Una cosa che si farà Nei prossimi anni, no? Ipotizzo Magari anche tra 5-6 anni Riusciremo a farlo Però, voglio dire Io sono qua per fare questo, ragazzi Cioè, a me non interessa Guadagnare quei 100 euro in più al mese Perché tanto poi io già lavoro Non mi interessa andare a fare Fare le live con gli youtuber famosi Cioè, io vorrei creare qualcosa Io sono qua su YouTube Per parlare di calcio È la cosa principale Però Se voglio creare qualche evento Qualche iniziativa Queste cose qua Cioè, lo faccio sempre in ottica Lazio Cioè, capito? Non mi interessa andare a fare l'evento Di qua Di là Capito? Vorrei creare qualcosa del genere Ok? Perché poi vedi mobilismo Nella YouTube Lazio Cioè, io a volte sento dire Della gente che dice Eh, ma come mai Gli youtuber della Roma Dato che Si parla della Roma Potrei parlare anche dell'Inter È però della Roma Perché c'è la rivalità Cittadina Come mai hanno molti più iscritti Di voi, no? Degli youtuber Lazio Di noi Allora, uno Perché anche la Roma Lavora meglio sui social E quindi è una squadra Che è più chiacchierata Perché la Roma Ha 4 milioni di follower Su Instagram Anche il canale YouTube È molto attivo Vedete Quindi è normale che Diciamo In cascata Anche gli youtuber Hanno più iscritti Alla Roma Però Non ci sono scusanti Diamo meriti a loro Ma di meriti anche a noi Magari Non tanto a me Poi sicuramente anch'io Vabbè Poi ripeto Non è il mio lavoro Non è che posso fare chissà cosa Ma L'impegno c'è La passione c'è Vedo immobilismo Cioè io Sono venuto anche a Roma Cos'è un mese fa Sì un mese fa Ho fatto quella cena Che alcuni anche di voi Siete venuti Ho contattato Degli youtuber della Lazio Alcuni sono venuti Alcuni Sì Mi hanno detto Sì vengo Poi Ma No Ma non posso Non ci sono Ma come Come non ci sei Cioè io vengo a Roma Sono venuto a Roma Per visitare la città C'era mio cugino Ma sono venuto anche per quello Cioè mi sono fatto Una Tre giorni Che poi voglio dire Alla fine erano Un giorno pieno Più la sfacchinata Che ho fatto I soldi che ho speso Che quello che poi ho visto a Roma Perché in tre giorni cosa fai? Fai mezza giornata Il viaggio Un giorno Pieno E l'ultimo giorno Di nuovo Mezza giornata Vai via Quindi chissà Cosa ho fatto Cioè è stato più La fatica che ho fatto Che il resto Però se l'ho fatto È perché sono voluto venire E tu Che sei di Roma Che sei a 100 metri Ah ma no Ma non ho voglia Ma poi per carità Magari avrai degli impegni Però C'è una cosa Che non è che rivolta A uno preciso È un messaggio Un po' a tutti Quindi vedi immobilismo Immobilismo Io tante volte ho provato A creare qualche collaborazione Però Eh ma non ho voglia Ma non ci sono Non posso Vabbè Ragazzi Io vado avanti per la mia strada Poiché non si dica Che io non voglio Capito Creare la community Perché io quando ci ho provato Vedo proprio Come dire Sì Se non ho niente da fare Magari ci sono Capito Proprio Sì Secondo piano No Però se no Io mi faccio i cazzi miei E vaffanculo Quindi Va bene Comunque Io ti dico Io vado avanti Per la mia strada Tanto Nella vita Chi fa da sé Fa per tre Io la penso così Quindi Ripeto Questo progetto Di fare un amico Che vuole con la Lazio È una bella idea Però ci vuole gente Che ha voglia Non gente pigra Che dorme Capito Quindi Bisogna rimboccarsi le maniche Poi magari uno non ci riesce Nelle cose Però ci deve provare Capito Magari non ci riusciremo mai A fare queste cose Magari io ho tanti progetti Non ne riesco a fare uno Però ci provo Almeno Capito Il tempo è quello che è I soldi sono quelli che sono Tutto quello che vuole Mille scusanti Ma io penso Che se uno vuole fare una cosa La fa Ok Quindi il messaggio Del video di oggi È questo E poi Vabbè Se amichevoli Fatele vedere Cazzo Va bene Signori Like al video Iscrivetevi al canale Bella Ciao a tutti